Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi siamo qua per parlare di tennis, quest'oggi siamo qua per parlare delle partite della settima giornata dell'Australian Open. Prima di passare però al video di oggi, il mio video è quello di iscrivervi al canale. Mi raccomando ragazzi, in questo momento ci troviamo a 292 iscriviti, ne mancano soltanto 8. Cerchiamo di arrivare a 300 entro la fine dell'Australian Open. È un obiettivo tranquillamente alla vostra portata perché mi siete sopportati tantissimo in questi giorni. Ieri abbiamo fatto 12 iscritti e oggi ne abbiamo fatti altri 4 a 5. Quindi mi raccomando continuiamo così, iscrivetevi al canale, continuate a fare quello che state facendo, continuatevi a sopportare nella maniera nella quale vi state sopportando. Inoltre ci devo ringraziarvi per il supporto del video di Sina perché veramente 1600 visualizzazioni non me le sarei mai aspettate ma voi siete stati in grado di sorprendermi. Quindi grazie mille a tutti coloro che hanno visto il video, tutti coloro che hanno lasciato like e tutti coloro che hanno commentato. Inoltre vi invito anche ad attivare la campanellina, a lasciare un bel pollice in su e commentare facendomi sapere la vostra. Allora ragazzi partiamo con le partite di oggi, ho anche poco tempo. Allora, Paul Kezmanovic ragazzi, Tommy Paul esce dall'Australian Open al terzo turno e perde una marea di punti oltre a questo. Perché ragazzi adesso Paul, ricordatevi che Tommy Paul l'anno scorso fece semifinale, scende al quindicesimo posto, almeno così tanto. Però comunque si ha perso tre posizioni insomma che non sono poche, soprattutto quando sei 15 al mondo e soprattutto quando tra il 13 che è Dimitro perché ha 2785 punti e tra il 15 che è Paul e il 14 che è Tiefo ci sono 750 punti di differenza. I miei ragazzi sì, Paul perde, non gioca bene, Kezmanovic d'altro canto è giusto parlare da rimanere da Kezmanovic, ci ha giocato una grandissima partita. Sono servito comunque sia 5-7, la partita si è conclusa per, vi dico anche lo scorro, va? 6-4, 4-6, 6-2-6, 7-6, si potrebbe pensare a questo punto una 4-7 che sarebbe andata in favore di Paul, invece no, 6-0 nell'ultimo parziale. Poi Urkac batte Hugo Humbert, come si direbbe in francese ma non sono capace ovviamente, vince Dimitro, scusatemi Urkac, dopo aver preso il primo parziale vince con il risultato di 3-6, 6-1, 7-6, 6-3, Urkac non sta giocando benissimo in questa seconda, però comunque sia a 4-1 ci è arrivato. Kazu ragazzi batte Talon Grixpur, credo che avessi detto che avrebbe vinto Grixpur e Kazu, scusatemi, Kazauks, insomma non so come si dica e vince il tenista francese Kazauks per 6-3, 6-3, 6-1, la partita è dominata, ha dominato in lungo e in largo, in 1 ora e 47 minuti è chiuso questo incontro. Qua parliamo ragazzi di torno della vita, qua parliamo probabilmente di una delle migliori prestazioni slam di un tenista francese negli ultimi 5 anni, cioè io mi ricordo due quarti di finale di Monfields, ma ragazzi a parte quello la Francia ha veramente 0 totale nel tennis maschile a livello slam, veramente 0 totale, invece adesso Kazauks con questa strana open insomma ha giocato bene, quarto turno, adesso il quarto turno affronterà, chi affronterà il quarto turno? Grixpur, forse Alcaraz, vediamo se... no, Urkac, affronterà Urkac e non Alcaraz, partita complicata per tutte e due, sì parte favorita Urkac, ma attenzione eh. Poi abbiamo Alcaraz, che l'ho nominato prima, che ha affrontato e che ha giocato contro Shang, ragazzi ha vinto il Mursiano 6-1, 6-1, 1-0, insomma si ritira dopo, dopo aver subito praticamente il terzo set, c'è da capire se è stato un ritiro, semplicemente perché non voleva prendere 6-1, 6-1, 6-0, o 6-1, 6-1, 6-1, oppure adesso la partita non l'ho vista, oppure però ho visto insomma un po' di obiezioni riguardo il ritiro di Shang, oppure se è stato un ritiro perché c'è stato qualche problema, comunque sia stato di fatto che Alcaraz ha vinto facilmente questo incontro senza alcun tipo di problemi, e adesso giocherà a quarto turno, io credo che sia Alcaraz e sia Medvedev, per quanto Alcaraz sta giocando meglio, e per quanto Medvedev va a parte oggi e mi ha giocato male, non dovrebbero avere problemi a raggiungere la semifinale, però ragazzi ci sono stati talmente tanti upset che non sarei sorpreso qualora non dovesse essere così. Poi, non ripatte Kasper Rudd, insomma Rudd era una delle mie delusioni del maschile, non ci ho preso, però comunque sia, nel senso, in parte ci ho anche preso, ma Rudd onestamente contro Zverev, poi avrebbe potuto fare poco, sì, contro Zverev avrebbe potuto fare poco, quindi di questo ragazzi Rudd veramente non poteva fare, cioè Rudd non è in forma, poi figuriamoci qua sul cemento, insomma, Rudd secondo me non, vi ho detto io, l'ho messo anche fuori le 10, dai 20. Comunque sia vince Norri, Cameron Norri per 6-4, 6-7, poi nel terzo set magari sembrava che qualcosa potesse cambiare, visto che Norri è Rudd era avanti un break, invece così non è stato, perché Norri ha controbreccato e ha infilato un break nell'ultimo game del parziale per portarsi a casa il set, quindi 6-4, 6-7, 6-4, l'ultimo set l'ha vinto 6-3. Poi Dimitrov, ragazzi, perde secondo me clamorosamente da Borges, Borges, chiamiamolo così, e perde clamorosamente a sorpresa secondo me perché io non me lo sarei mai aspettato, in quel quarto set ha avuto anche un set point e io sto arrosicando ragazzi perché Dimitrov io l'avevo al Fanta, e poi passeremo a Sviontech, mega video sfogo perché non è possibile che ho fatto cagare all'OpenNostale, ma cagare proprio in tutti i sensi, cioè il canale sta andando da Dio, non dico ovviamente, il canale sta andando da Dio, io sono contento del lavoro che sto facendo, anche se si può fare molto di più, però, porca miseria, cioè nel senso, mannaggia Dimitrov nel senso, mannaggia soprattutto a Sviontech che mi fa almeno 650, cazzesco, vabbè, insomma, comunque sia, stavo dicendo, vince Borges e 3-7-1, grandissima partita del tenista portoghese che credo che verrà estromesso dal torneo da Medvedev, il quale, colleghiamoci, ha battuto Geliassim, 6-3-6-4-6-3, ok, ci avevo preso qua ragazzi, ci avevo visto lungo, se così possiamo dire, l'avevo detto che avrebbe vinto Medvedev e vinto 3, e sarebbe salito di livello, questa partita qualche anno fa fu una, due anni fa fu una partita veramente fantastica qua, i nostri raggiunsero, raggiunsero il quinto, 7-8-6, arrivati al quinto, ma soprattutto era a quarti di finale, quindi livello anche più alto, ed era un Medvedev che, a parte che era un Medvedev che veniva da un fine 2021 strepitoso, poi ha perso in modo clamoroso quella sconfitta, con Adal a Melbourne, e vi stavo dicendo, oggi ha giocato bene secondo me Medvedev, non è ancora al 100%, ma già questo Medvedev inizia ad essere più competitivo, ad essere un giocatore complesso per gli altri tre, perché alla fine Medvedev deve andare a lottarsela con gli altri tre, per vincere il titolo secondo me, secondo me Medvedev contro tutti gli altri parte, non dico nettamente favorito, però comunque sia sostanzialmente favorito, mettiamola così, e vittoria di Medvedev per 6-3-6-4-6-3 all'assim, insomma, è un giocatore ormai, no, fine, ovviamente no, perché ha 23 anni, però che sta facendo molta fatica. Zwerver batte Michelsen, finalmente in poco tempo, Zwerver vince la partita un'ora a 59 sotto le due, e gli arriva a vincere in poco tempo Zwerver, perché non poteva andare avanti a vincere in 5-7, con due giocatori nettamente inferiori a lui, insomma, questo che è in istante statunitense, onestamente non ha niente a che fare con Alexander Zwerver, per 6-2-7-6-6-2, vittoria semplice per Zwerver, perché poteva essere anche ancora più netta, se nel secondo set non avesse avuto quel piccolo calo. Poi passando al femminile, ragazzi, mi devo sbrigare, Kaniskaia batte Stephens, 2-7-1, vittoria per... Sikaniskaia vince con Stephens, sì, 6-7-6-1-6-4, primo set vinto da Stephens, poi dominio. Poi abbiamo Iastremska che batte Navarro, 2-7-1, per 2-6-6-2-6-1, partita con set dominati da uno e dall'altro, alla fine si è posta Iastremska. Poi, Zheng batte Wang nel derby cinese, la tenista più forte alla fine vince, 6-4-2-6-7-6-10-8 al super tiebreak. Dodain batte Burel per 6-2-6-4, partita pressoché dominata. Jasmine Paolini, completa, completa, compie l'impresa e arriva in ottavi di finale, 7-6-6-4, battuta Blinkova, adesso si sognano i quarti, contro Kaniskaia, sarà una partita complicatissima, ma ragazzi, vietato, non sognare, vietato, non crederci, perché su me Jasmine, le possibilità di vincere, questa partita ce l'ha assolutamente, bisogna crederci, fino alla fine, fino in fondo. Poi abbiamo, Azarenka che batte Osta Penko, per 2-7-0, 6-1-7-5, io avevo detto che avrebbe vinto lei, perché comunque sia l'esperienza nostrale, a via campionessa qua, semifinare l'anno scorso, avrebbe detto che erano a suo favore, e così è stata la fin fine vittoria, per la tenista bielorussa. Poi abbiamo Noskova che batte Svjontek, io non lo so ragazzi, ho fatto una cagata in mani a mettere Svjontek, però ragazzi, alla United Cup non aveva giocato così male, cioè, nel senso, adesso qua ha fatto schifo, perché ha giocato 3 partite, una più brutta dell'altra, questa è proprio la Ciligini sulla torta, 6-3, no, 3-6, 6-3, 6-4, mannaggia, mi è andato il Fanta Tennis, mi è volato, ero primo, ok, due settimane insignificanti, poi ero primo, e adesso ragazzi, cioè, farò negativo probabilmente, ragazzi, a meno che Djokovic non vince lo Slam, ma mi auguro che non succeda, mi auguro che vince Sin, però se Djokovic mi esce in quarti di finale, sì, bello per Sin, ma per me il Fanta Tennis, un disastro, cioè, mi dovrebbe vincere l'andare l'altro meno, vabbè, che sia 6-3-6, 6-3-6-4, noi ci si vede domani, anzi, stasera con un nuovo video, vi ringrazio tantissimo del supporto, ci si vede domani, con un nuovo video, ciao a tutti.